buongiorno! buongiorno! che stai a fare? metti le goccine sugli occhini? beh, ma tu è pronto! non mi fai un cazzo! ma vedi, quanto è bellino! mannaggia! eh, oh, devo dire che questo è bello! eh, fatti! ma marito? eh, colpo, ogni po' di manche che è bello! vedi, vedi qua, vedi! ma quanto è bello? si, si, ma guarda qui! ma quanto è bello con questo capello? mannaggia! eh! eh, la sto fermo! ma io ti ho detto buongiorno! dove andà? affan... oh! adesso si che è una bella mattinata! guarda che bella! plafoniera che ho! plafoniera pennellata! perchè potete fare anche il pennello così! quanto da gusto fa il pennello ragazzi? io ve lo consiglio! fatevi crescere il ciuffo e poi... spennellate! ho messo lì le gocce e questo mi sta rompendo io! ma io! e così non lo vedo! perché? che ti fai? eh! vuoi fare il pennello? il pennellino! il pennellino nella mattina! il pennellino nel mattino! il pennellino nel mattino! ma questa è una bella posizione per farsi i cazzi degli altri? certo che vedo tutto davanti! ma sta pieno? sta pieno, pieno, pieno! pieno di che? pieno di sorca! oh! meno male! sta pieno! ma che cazzo stai? qual è il problema? eh? allora mi per forza! si! perchè porta anche Filipe! cercava il cappello! cercava il cappello o no? io lo cerco! se ho il solito gli occhi che la lunetta si! sino da me mi sono le cazzate sue! ma senti che dici le cazzate! cammina! lasciala via! che io non ci discorre! ma siamo pronti? sei pronta? no no ma rifà un urletto! ciao! fà un urletto! brava! ogni tanto fai un urletto eh! tu sei pronto? io sono pronto! ah! ora che pelo sono! per fammi tanto il culo! nooo! queste parolacce dietro di sella però le parolacce! madonna mia signora! aiutami! ma io ne faccio più questo matto! San Francesco! Santa Chiara! Santa Rosa! aiutami! che pozza fa le f***e mi dai il culo! ma beh! non ripianco questa macchina! oh! c'è! mica può fare così! eh! se non scendimi! no le minacce no eh! eh! le minacce! e adesso? a te la fai! e dai adesso? a te le f***e! a te le f***e! ahhh! ahhh! sta cazzo qua! pure! proprio un repertorio! A te le f***e! a te le f***e! a te le f***e! a te le f***e! questa mattina! questa sfarfalla! eh! invece tu no! le circonda me! ma c'è il nome suo! ma c'è il nome suo circonda lui! a te le f***e! a te le f***e! a te le f***e! a te le f***e! che cazzo! a te le f***e! ma che cosa? i freghini da fuori chiamano FAA! come? i freghini da casa al cancello fuori chiamano FAA! 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 questo è cacca mo! Cacca mo! Please, io sono il chef del maestro, s'accommodo! fermati che mi lascio! avete la scelta? Sì! Buongiorno! Ma io te la trovo anche qui? Porcamagliare! E mi dira il pelo di braccio! E' il pelo adesso! E' il pelo! E' il pelo! Perché sta pieno! Corre! No! La canzone su questo posto! Ma soprattutto il divano eccolo un po' usurato ma eccolo tutto di pelo! FAA! Guarda Filiberto vai Filiberto! Che Nicoletta! Eh? Gli ha detto si coge perché c'è il tuo mio che fai serie eh! Non ce l'hai vergognato! E' vero! Te l'hai vergognato Filiberto! Oh! C'eravi! Eh? Ma anche l'avevo visto! L'hai visto? Ti piace? E' beh! Qui ci sono passato una vita! Sì! Una vita! Mezzo a questo pelo! Ma com'è questo pelo? Ah! Questo pelo ne è nero! Però vicino ci avevi! Chi c'erano? Ci avevi vicino una bella sorca! Era meglio! Era meglio! Adesso c'è solo il cincilla! Era meglio! Era meglio! Come si lavano le mani! Come si lavano! Come? 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 No... La benedizione! 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 Vieni con i simpotenti di Deus! E che fai il convinto! Il peccatore! Tutto! Cungola! come o no? come si mangia? Andrea come si mangia? la scorza la mangia arzughe? arzughe? o no? arzughe? ma il crudo com'è? come si mangiano i scampi? la rossa greca romana come si mangiano i scampi? quanto è bello Andrea com'è? come cambiano? come? come che? no no Andrea guardate che io veramente ragazzi ma lo so capitato compratura ha regalato la rossa a beve regalila regalila Andrea regalila la rossa lui vuole il resto altrimenti non amari non grazie ma guarda quanto è giro eh eh come dice l'amico nostro lo crudo è lo crudo ma lo fritto? lo fritto lo fritto è lo fritto mamma mia mamma mia mamma mia com'è il pelo? eh se volete vedere un divano di pelo che si muove fate swipe funzionista numero uno vai vai se 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 vai Andrea ci siamo ci siamo direttamente la stella adriatica ok ci sei 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 Andreone ma che percussione se se mamma mia andrea con Francesco no grandi l'applauso eh ha detto il costume sulla banda di carabinieri io che io la voglio stipendio eh stare con te vai vai vediamo chi la canta le veline sta pieno guarda come balla Nicoletta p... sta pieno sta pieno sta pieno sta pieno vai 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 le storie voglio che la cantate voi a squarciagola vi ripubblico tutti sta pieno che è stato? quanto? tanto? quanto? quanto? voppa un culo ciao sì ciao bella giornata oggi grandissimo pranzo ringrazio tutti i ragazzi che sono venuti a salutare e niente è sempre bello uscire con i nonni e dedicare del tempo a loro poi c'è Andreone che è assurdo quanto è bello Andreone niente adesso via si riparte è incredibile ci si ricarica e si va poi è ritornato anche confettino eccolo qua guardate che confetto mamma mia che confetto è ritornata dalla Sicilia è incredibile eh sì poi con questo confetto proprio si è subito di cerimonia ha fatto la doccia e ho ascoltato la canzone del mio amico Penguin fate swipe andatela ad ascoltare perché è molto estiva e molto molto divertente quindi grande Peng che criticone dice eh voi fate le canzoni ragazzi noi non siamo cantanti nessuno è un cantante cioè favo le canzoni per divertire la gente per divertirci a me una canzone nonno nipote eh super super infatti sono stato primo su iTunes per poco tempo ma giustamente perché non sono un cantante è giusto così cioè ci sta è il divertimento che però voi mi avete sostenuto e sono super felice di come è andato però non mi sento bene raga invece sono cantante ragazzi cioè io sono cantante io sono cantante sono cantante guarda guarda io sono cantante sono cantante Ave Maria piena di grappa signore è in cantina più umbriaco di prima io sono cantante io sono cantante ok sono cantante io sono cantante rap Ave Maria piena di grappa sì sì tanto mi prende la cosa del cantante così però scusate adesso sono ritornato un ragazzino normale anzi con la camicetta stasera tanta roba sempre con le maglie sta pieno però il cappellino ce l'ho presto disponibili comunque su sto bar la musica è bellissima è bellissima sta musica bravi complimenti bella musica bravi bravi complimenti